parlando del mercato cripto ok ma questo vale un pochino in generale ok di conseguenza qualsiasi mercato economico finanziario va ad essere valutato attraverso uno strumento in questo caso abbiamo coin market cap come strumento principale e nello specifico si vanno ad analizzare quelle che sono diciamo gli attori principali all'interno di questo mercato ok quindi ripeto nel caso delle criptovalute abbiamo due se vogliamo strumenti principali per poterlo fare poi ci sono delle alternative a coin market cap c'è coin gecko criptocomper ce ne sono degli altri io personalmente mi trovo molto bene con coin market cap però ripeto ce ne sono degli altri quindi questo è un primo adesso andiamo anche a leggere dei dati così facciamo assieme delle considerazioni ok quindi questo è un primo un primo metodo per avere un'analisi globale di quello che sta succedendo e vi spiego anche quelli che sono gli aspetti tra poco più interessanti da andare ad analizzare un'altra un'altra cosa molto molto interessante si è praticamente l'indice cripto su fear and greed quindi è un indice che va a misurare la paura e l'avidità ok in questo caso nel mercato cripto cosa significa la paura ed avidità noi sappiamo che nel mondo finanziario tradizionale chi non mi conosce o chi è entrato da poco forse non sa che io ho iniziato il mio percorso in questo mondo con le azioni del mercato americano sono un pochino meno frizzanti del mondo cripto un pochino più noiose sono chiuse nel weekend tutto quanto però di fatto non è il cosa è il come quindi che siano cripto che siano indici che siano azioni diciamo la parte strategica ok e i comportamenti dell'essere umano sono i medesimi quindi ogni mercato che sia finanziario tradizionale o che sia un derivato come le cripto valute che di fatto dovrebbero essere delle valute ma sono diventati un mezzo di anche di speculazione soprattutto negli ultimi anni sono misurati da due indicatori proprio a livello comportamentale quindi la paura e l'avidità quindi una persona che investe nelle cripto valute ok normalmente ha appunto nella sua vita nelle sue giornate ha questi due sentimenti ok prova queste due emozioni quindi alzate la mano se non avete mai avuto o paura di perdere oppure stavate guadagnando tanto e è subentrata quella avidità cioè magari avrei dovuto vendere qualcosa capitalizzare magari diversificare però cavolo se sto dentro qualche altro giorno magari riesco a fare più soldi quindi è normalissimo ripeto nel mondo degli investimenti la natura umana ci porta a ragionare a comportarci con queste secondo queste due emozioni ok quindi qual è un aspetto interessante ok un aspetto interessante è capire attraverso questo sito che si chiama al te possiamo trovarlo andando su www.alternative scritto alternative.me slash poi magari ve lo scrivo su school ok o magari o magari samuel fallo tu ok scrivi direttamente questo questo link su school ok in modo tale che per chi non lo conoscesse può andare a vederlo è molto semplice fondamentalmente è un indice che combinando una serie di dati a livello statistico al di là della pubblicità che non ci interessa ok ci permette di andare a vedere quello che è il sentimento del mercato oggi quindi now ieri la scorsa settimana e lo scorso mese ok dando un punteggio da 0 a 100 dove 0 è paura assoluta da parte dei mercati e 100 è avidità massima ok come vedete sia oggi sia ieri sia questa settimana e sia lo scorso mese questo indicatore è oscillato da paura ad estrema paura quindi questo significa che in questo momento preciso c'è appunto prevale la paura di perdere soldi rispetto all'avidità di farne di più e quindi questo cosa significa significa che i player principali come vengono definite le mani forti che muovono i mercati vanno ad avere molta più come posso dire vanno ad essere molto più morbidi molto più soft molto più tranquilli nell'acquistare un determinato asset in questo caso ripeto stiamo analizzando le criptovalute ma vale per la borsa vale per gli indici vale per tutti gli strumenti finanziari o para finanziari a livello globale quindi questo è un diciamo un parametro da tenere in considerazione perché ovviamente se c'è paura è chiaro che nel momento stesso in cui e questo indice è tra paura ed estrema paura ormai da praticamente da quasi tre mesi ok è chiaro che se questo indice continua a rimanere nella paura estrema paura questo cosa significa significa che nel momento stesso in cui io identifico un'opportunità di un progetto interessante ok quelle che noi chiamiamo pepita no quindi troviamo una pepita ok poi magari se volete andiamo a rivedere come analizzare un progetto e queste cose qua però concettualmente io trovo un bel progetto che rispetta un po quelli che sono le caratteristiche quindi bassa capitalizzazione di mercato è un progetto interessante risolve un problema specifico c'è un team di un certo di un certo tipo eccetera eccetera compro questa moneta quindi decido di comprarla ok nel momento stesso in cui da tre mesi siamo bloccati una situazione di estrema paura devo essere consapevole del fatto che quella moneta non andrà ad avere un incremento esponenziale da qui a una settimana un mese a due mesi cioè finché il mercato rimane in questa situazione ok la mia moneta o rimarrà al prezzo in cui l'ho acquistata oppure avrà un calo ok quindi questo è estremamente normale ve lo voglio dire perché in questo momento storico dove ripeto prevale quella che è la paura quella che è l'indecisione alla luce soprattutto degli ultimi degli ultimi fatti ok geopolitici molto molto gravi ovviamente l'aspettativa deve essere quella di dire ok io approfitto ok di questo momento interessante per poter puntare diciamo su quelli che secondo me sono dei cavalli vincenti ok sapendo che quando il mercato inizia a passare da estrema paura e va intorno alla metà quindi diciamo dal 50 in su quindi va da neutro a non troppo avido perché anche quando si va su tu gridi quindi troppo avido quindi quando si va qui normalmente avviene un piccolo storo del mercato ok perché alcuni iniziano a vendere quindi l'ideale è mantenersi da un 50 a un 75 se noi ci manteniamo in questo range di solito e dove avviene quella che viene definita burran quindi una una crescita e una tendenza rialzista da parte del mercato quindi perché vi spiego questo perché purtroppo l'essere umano siccome c'è pochissima educazione finanziaria sia a livello globale ma in italia comunque in europa che un paese un pochino diciamo vecchio no come 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 mentalità c'è poca formazione da questo punto di vista normalmente si ragiona al contrario cioè quando c'è tanta avidità e il mercato è super in alto tutti entrano e tutti comprano ok quando il mercato in una situazione come questa dove comunque ci possono essere le ottime opportunità nessuno compra perché tutti aspettano quindi poi andremo a vedere coin market cap quindi torneremo all'altra diciamo all'altra schermata in modo tale che vi faccio vedere quelli che secondo me sono i progetti più interessanti e andiamo a leggere anche a livello numerico quello che è il mercato però questa è una cosa molto importante perché di fatto io continuo a sostenere che l'85 90 fino al 95 per cento del mio successo in questo mondo ma nella vita in generale è la mentalità che io tengo e come reagisco a una determinata situazione cioè in realtà paradossalmente quando tutti fanno una cosa non dico che dovremmo fare quella opposta perché non è sempre così ma perlomeno non fare quello che sta facendo la massa perché per definizione statisticamente parlando la massa non ha risultati ok quindi non dico di fare l'opposto ma fare diversamente quindi tutti parlano di non lo so di una moneta c'è un hype assurdo e tutto quanto probabilmente siamo già in una fase dove poi una volta che cala questo questo hype che sarebbe questa 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 aspettativa e questa euforia su quella moneta il prezzo poi va a crollare quindi le persone perché si fanno male perché comprano bitcoin a 69 mila quando tutti ne parlano le televisioni ne parlano tutto quanto e ad oggi se una persona perché poi ovviamente dipende anche dalle credenze di ognuno però prendiamo bitcoin come diciamo punto di riferimento nel mondo cripto se uno crede a bitcoin dovrebbe comprare bitcoin a 30 mila a 32 mila a 35 mila ok mentre purtroppo il mondo funziona al contrario quindi ad oggi non si fa nulla c'è uno sentimento di negatività totale e quindi nessuno fa niente però in realtà come insegnano i grandi fondi di investimento il profitto si fa non quando si vende o perlomeno non sempre ma quando si compra perché se io compro basso ho molto più margini di manovra nel quando vendere perché ovviamente se io compro ad oggi un qualsiasi progetto nel momento stesso in cui la paura passa perché alla fine sono cicli di mercato quindi la paura passa sicuramente non è che si rimane così a vita può passare un mese può passare un mese e mezzo può passare una settimana vi dico che analizzando il mercato ad oggi pesa molto la situazione ucraina russa russia adesso non entriamo in questioni politiche però questo pesa molto il momento in cui la cosa si risolve i mercati riprendono diciamo emotività e quindi se io oggi ho comprato nei progetti in cui credevo ovviamente avrò un'impennata di prezzo importante a quel punto quando vendo diventa non dico irrilevante ma diventa meno importante perché ho comprato basso ok quindi questo è un pochino il concetto quindi alternative punto me questo vi permette con un click ok di capire la situazione quindi c'è estrema paura può essere un buon momento per comprare ho fatto un'analisi di un progetto mi piace può essere un buon momento per comprare siamo in una situazione opposta con la lancetta qui è il momento di semplicemente godersi i frutti ok di quello che ho comprato ma aspettare per comprare altro che potrei rischiare di comprare sulla parte diciamo sulla sulla cima della montagna e poi avere una caduta ok poi eventualmente vi faccio vedere anche che può essere interessante non so se avete mai visto questa immagine che è abbastanza correlata adesso vediamo se ne trovo una interessante questa qua forse mi sembra interessante non so se avete mai visto fatemi sapere nei commenti se avete mai visto questa questa immagine fatemi vedere se riesco ad aprirla vi è riuscita a vedere si vede abbastanza bene o troppo piccolo si vede ok quindi questo è una è la psicologia di quelli che sono i cicli di mercato fatemi sapere se avete mai visto questa cosa fatemi sapere nei commenti così magari se tutti lo sapete già vado avanti andiamo a vedere le monete e tutto quanto quindi vediamo un po' no mai vista fatemi sapere gli altri ok ok perfetto allora questo praticamente qua siamo alla base cioè fondamentalmente quindi ancora prima di vedere le monete ancora prima di vedere i prezzi ancora prima di vedere tutto questo è la base di come funziona l'economia ok quindi questo come vedete c'è scritto market cycle ma prima c'è scritto psychology quindi la psicologia di un ciclo di mercato e questo è strettamente correlato a quello che abbiamo appena visto quindi perché adesso c'è paura cioè cosa significa questa cosa significa che siccome i mercati ok sono mossi dai soldi ma anche dalle emozioni degli investitori che siano piccoli o che siano grandi questo è come funziona un ciclo di mercato quindi quando tutti comprano bitcoin a 69 mila ok siamo in una fase di euforia ok dopodiché c'è un piccolo storno fisiologico del mercato no perché ragazzi è normale che se voi ad esempio io faccio sempre l'esempio di phantom no che per me è uno dei progetti più interessanti oggi a saldo io l'ho comprato a 35 36 centesimi è chiaro che nel momento in cui arrivo qui è normale che se io sono arrivato qui quando l'ho fatto la conferenza ad ottobre a 3 e 20 io ho fatto un 10 per più o meno è ovvio che potrei valutare di vendere o perlomeno di prendere una buona parte di profitto quindi fisiologicamente se tanti vendono c'è una piccola caduta del prezzo ok però qui ancora la gente tutto sommato è ancora passate mi termine ancora gasata ok si scende un altro po ok alla gente inizia a venire l'ansia ok e dopodiché si va nella parte di panico e di denial che significa tipo un atteggiamento negativo dove si dice no hai visto le cripto lo sapevo che perdevo soldi di su di giù questa cosa si alimenta perché ovviamente le persone parlano tra di loro nei famosi gruppi telegram nelle community ormai siamo collegati a livello globale con con internet no quindi si sa tutto di tutto oppure la gente entra nel metaverso hai visto perso soldi quindi si crea questa tra virgolette bolla e quindi c'è la capita la cap la capitulation quindi si si capitola quindi c'è la caduta fondamentalmente la rabbia ok e poi si può arrivare anche a depressione e disbelief quindi non credere più nel mercato però come vedete ok nel momento in cui non si crede più cioè a livello generale si crea questa questa sensazione di dire no hai visto non funziona lo sapevo è una truffa il mio amico mi ha fatto comprare bitcoin a 69 mila era meglio che me li tenevo in tasca eccetera eccetera come vedete da destra si passa a sinistra quindi qui ci si sta preparando per un'altra fase di mercato ok quindi qui è il momento in cui siamo adesso è il momento migliore ok ovviamente qualora una persona abbia la possibilità e in base alle proprie possibilità dire ok io compro ok perché poi riparte il ciclo di mercato quindi idealmente noi vogliamo comprare qui e vendere qui ok e come facciamo a sapere dove siamo all'interno di questo ciclo analizzando nel caso delle cripto poi nel caso della borsa eccetera ci sono altri indici però nel caso delle cripto è semplice perché io vado qui e capisco dove sono ok quindi immaginatevi che la lancetta identi scusate identifichi dove siamo quindi più la lancetta è sinistra più siamo in questa parte più sale vedete siamo nella parte poi di euforia eccetera ok quando siamo come vi ho detto oltre il 75 siamo nella fase massima e quindi ci dovremmo aspettare poi che si vada si torni indietro perché proprio un ciclo c'è proprio così che funziona il mercato in base a quella che la psicologia quindi detto questo vediamo la parte numerica che comunque interessante ok quindi ovviamente qui vediamo nel caso in cui lasciamo l'impostazione tradizionale vediamo un vediamo una serie di dati allora la prima cosa è il la cap la diciamo la come si può dire sì la capitalizzazione totale quindi quanto è liquido il mercato cripto e vediamo che in questo momento è pari a 1.76 trilioni di dollari ok quindi tutte le criptovalute sommate tra di loro fanno 1.76 trilioni quindi mille mille miliardi e mille miliardi più 760 miliardi ok un trilione sono mille miliardi quindi un trilione e 76 ok vediamo anche che nelle ultime 24 ore il mercato totale ha perso il 4 per cento 4.06 per cento ok dopodiché se lasciamo l'impostazione classica ce le va a mettere in ordine per market cap quindi il totale è un trilione 76 ok e qui vediamo ogni ok ogni criptovaluta quanto ha di market cap quindi quanto è capitalizzata ogni criptovaluta ok quindi vediamo bitcoin che in questo momento che la diciamo la la cripto principale che è un market cap di 741 miliardi ok ed ethereum 317 miliardi ok come terzo abbiamo peter che è la una stable coin che probabilmente immagino spero lo sappiate che ha un prezzo che è quasi sempre vicino al dollaro ok pari a 79 miliardi e poi abbiamo bnb al quarto posto 62 miliardi e usd coin che è un'altra stable coin che come vedete in questo momento è 0.9999 quindi oscilla un po ma comunque ha dei collaterali che permettono di mantenere il prezzo sempre vicino a un dollaro ok e ha un market cap di 52 miliardi questo è un altro dato significativo cioè noi nelle prime 5 criptovalute a livello mondiale abbiamo due stable coin ok rispettivamente alla posizione 3 e alla posizione 5 ok quindi quando voi avete nelle prime 5 posizioni quasi un 40 per cento di stable coin è una conferma del fatto che siamo in una fase di mercato incerta perché perché le persone cos'è che fanno vendono cripto vendono le cripto volatili e si vanno a posizionare sulle stable coin quindi si vanno a garantire ok il profitto comunque vanno a garantire il fatto che il loro portafoglio non subisce delle oscillazioni in un momento di incertezza ok è ovvio che nel momento stesso in cui il mercato riparte voi vedrete che queste stable coin scendono nella gradazione nella gradazione si dice sì penso di sì nella classifica ok scendono nella classifica ok per quale motivo perché le persone ad esempio comprano più bmb quindi vendono usdp per comprare ad esempio bmb per comprare xrp per comprare luna per comprare cardano eccetera per quale motivo perché vedono che siamo in una fase di ripartenza e quindi vogliono monetizzare con queste qui ok non si monetizza tendenzialmente cioè il prezzo è quello e quindi non ho nessuna speculazione quindi anziché vendere bitcoin prendere euro farmi fare il bonifico farmi chiamare dalla banca che mi fa mille domande ma perché stai ricevendo i soldi ma cos'è cosa non è io semplicemente vendo i miei bitcoin mi tengo usd usdc piuttosto che altre ok queste sono solo le due principali e aspetto il momento corretto per poter entrare a mercato ok e qui in questo modo se io vendo bitcoin per usdt il market cap di bitcoin scenderà e aumenterà il market cap di usdt perché nulla si distrugge come era quella legge nulla si tratta nulla si distrugge tutto si trasforma ok adesso sono un po arrugginito qualche anno che non vado a scuola però per capirci è questa la questione quindi non è che usdt nasce così da nulla ok nasce perché c'è la market cap aumenta perché qualcuno vuol dire che sta vendendo delle criptovalute tendenzialmente per proteggersi quindi questo è un altro dato interessante dopodiché possiamo vedere come altri aspetti interessanti che anzi sono fondamentali adesso io raramente entro dal telefono dal computer quindi fatemi vedere se si riesce a fare come il telefono ecco perfetto quindi se io clicco qui ok qui in alto posso vedere anche una serie di altri di altri aspetti che sono altrettanto interessanti di cui non dico nessuno parla ma è una cosa a cui si presta poca attenzione quindi cos'è che vediamo qui vediamo l'evoluzione di quello che è stato questo famoso market cap ok quindi la appunto il totale di soldi in circolazione per farvela semplice e possiamo scegliere di vederlo ad esempio a tre mesi ok quindi noi vediamo che eravamo arrivati a tre mesi fa eravamo in realtà meglio vederlo ad un anno che così si vede tutto quindi eravamo arrivati a un picco di quasi tre tre billion quindi scusatemi tre triliardi scusatemi trilioni quasi tre trilioni e siamo poi scesi a 1.7 quindi il mercato totale ha perso praticamente un 40 per cento ok l'altra cosa interessante è la diciamo il totale di market cap escluso bitcoin quindi vedere quindi questo include bitcoin questo esclude bitcoin ok e un'altra cosa fondamentale è la dominance quindi vedere il mercato com'è composto ok ad esempio nell'ultimo anno vedete qui abbiamo la percentuale in basso ci sono c'è la leggenda ok quindi abbiamo bitcoin ethereum quindi le principali in ordine e noi vediamo ok in base alle varie date in base ad esempio l'ultimo mese ok possiamo vedere l'ultimo mese ok perfetto vediamo ad esempio prendiamo un dato a caso senza quindi il 4 marzo che era ieri vediamo che fatto 100 in percentuale il mercato totale abbiamo il 42.92 per cento in bitcoin il 17.85 in ethereum il 4.32 in usdt e così via ok quindi questa viene diciamo chiamata dominance ok di bitcoin quindi è importante capire qual è la dominance perché più la dominance di bitcoin sale più tendenzialmente siamo vicini a una in linea diciamo statistica poi ovviamente non abbiamo mai il cento per cento però è statisticamente rilevante probabile che quando la dominance di bitcoin salga siamo in due scenari allora o le persone hanno paura e quindi vendono ok per comprare bitcoin perché ovviamente è quello più diciamo più scarso che ha un progetto e tutto quanto oppure oppure perché ci si sta aspettando un aumento di prezzo molto forte di bitcoin quindi tutti lo stanno comprando quindi è molto importante analizzare diciamo quello che è la panoramica a livello globale poi tornando sulle sulle cripto principali possiamo vedere delle altre cose interessanti cioè ad esempio vedere nelle ultime 24 ore quelle che hanno performato meglio ok e quelle che hanno perso di più questo lo possiamo vedere a 24 ore a 7 giorni a 30 90 oppure si possono scegliere degli intervalli anche personalizzati quindi possiamo andare su customize oppure se ce l'avete in italiano personalizza e potete scegliere degli intervalli personalizzati anche questo ci fa vedere che nelle ultime 24 ore ok se andiamo a vedere i profitti a parte ancora protocol ok non ci sono profitti particolarmente interessanti ok quindi se vedete abbiamo ancora protocol che nelle ultime 24 ore ha fatto più 18.64 per cento tra l'altro questo è molto interessante come progetto fa parte dell'ecosistema terra molto molto interessante tra l'altro ho fatto anche un video su su questo qualche 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 giorno fa poi abbiamo chilis che ha guadagnato il 4 per cento celsius ha guadagnato il 2.87 xrp lune 55 nex lo 0.54 ok e poi abbiamo solo stable coin che ovviamente sono rimaste praticamente invariate quindi abbiamo solo ok in un mercato globale abbiamo solamente 5 monete in profitto poi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 7 stable coin che ovviamente qualcuno ha perso qualcosina qualcuno ha guadagnato ma che comunque sono rimaste più o meno uguali e poi tutto in rosso quindi questo è un altro elemento che ovviamente fa pensare quindi in 24 ore solamente 5 monete sono andate in profitto ok e quindi questo vi permette sia su 24 sia ad esempio su 7 giorni sia su 30 giorni di avere un quadro globale di quello che sta succedendo un'idea diciamo una panoramica 360 quindi poi ricordatemi alla fine che vi spiego quella che sarà la novità che andremo ad introdurre a brevissimo quindi nel giro di 10 12 giorni per poter trarre vantaggio da queste situazioni perché comunque non è vero che si può guadagnare solamente quando il mercato sale è ovvio è una delle cose più semplici ma si può guadagnare anche quando il mercato scende quindi poi ricordatevi alla fine che vi spoilero ok questa cosa che è molto molto interessante quindi questo per quanto concerne la parte diciamo base dell'analisi l'altra cosa interessante adesso fatemi vedere se mi ricordo dov'è che un po' che non guardo è vedere la comparazione del mercato cripto con quelli che sono gli altri mercati e altri asset in generale perché ho fatto una considerazione no nell'ultimo diciamo nell'ultimo mese mese e mezzo no perché poi in ultima istanza il mio obiettivo è darvi degli strumenti per guadagnare ok quindi ho fatto una riflessione nell'ultimo mese mese e mezzo perché prima che succedesse questo questo casino con geopolitico perché poi alla fine non è solo una questione ripeto non parliamo di politica però è chiaro che da un punto di vista finanziario questa cosa impatta moltissimo non so se avete letto ma la moneta nazionale della russia che è il rublo ha perso in una settimana quasi il 50 per cento del suo valore ok quindi vuol dire che se io avevo 100 mila euro ok in rubli ad oggi è come se me ne trovassi 50 mila mi è come se in una settimana i soldi che possego ne ho 10 mila me ne trovo 5 mila ne ho mille me ne trovo 500 quindi non importa quanti ne ho importa il fatto che la mia moneta in una settimana si è svalutata quasi del 50 per cento quindi è chiaro che questa questa situazione che era totalmente imprevista mi ha fatto un po' pensare e quindi per chi mi conosce per chi mi segue dall'inizio sa che quando io ho iniziato a creare i primi contenuti creavo dei contenuti sulla finanza tradizionale sulla borsa tradizionale sul mindset quindi l'atteggiamento mentale dell'investitore poi ovviamente facendo anche cripto siccome la scorsa primavera c'era un momento storico molto interessante per le cripto ho deciso di focalizzarmi sulle cripto perché ovviamente c'era la possibilità di speculare di più però in questo momento storico dove appunto vige un po' questa questa incertezza alla fine ho pensato ho detto però porca miseria cioè le persone che mi seguono la community alla fine loro mi seguono perché vogliono fare soldi poi ok le cripto sono belle sono il futuro tutto quanto però perché non proporre anche sempre all'interno dell'ecosistema anche dei metodi che siano alternativi rispetto all'utilizzo delle cripto perché comunque io non è che faccio solamente cripto faccio una serie di cose e quindi questo mi ha portato a voler inserire poi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane dei contenuti per voi che saranno diciamo più ad ampio spettro e quindi in un momento in cui il mercato cripto è in basso c'è paura e quindi ci possono essere adesso faremo anche una carrellata dei progetti dei progetti interessanti da poter comprare per poi aspettare contemporaneamente possiamo trarre vantaggio da altre situazioni che invece sono interessanti in questo momento storico cioè il concetto qual è il concetto è non aggrapparsi ok a un qualcosa che in questo momento è come andare controcorrente ma è dire ok io vado a cavalcare quello che in questo momento si può cavalcare vado a monetizzare nel frattempo faccio scorta dei progetti più interessanti nell'aspettare che il mercato riparta quindi nel fare questo ragionamento vi voglio far vedere anche un dato che è molto interessante cioè comparare il mercato totale delle cripto con alcuni mercati finanziari farvi vedere questo dato che sembra tantissimo perché è chiaro che se domani mattina mi sveglio e ho un trilione e 700 miliardi in banca ok ovviamente le cose cambiano ok però questo numero che sembra gigante ve lo voglio confrontare con altre situazioni per farvi vedere che in realtà è molto molto piccolo e quindi questo dà un vantaggio enorme cioè il fatto che chi in questo momento sta studiando sta testando questo mondo avrà dei vantaggi nel futuro molto importanti perché siamo veramente all'inizio quindi volevo farvi vedere adesso è un po che non cazzeggio dal 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 computer quindi mi sembra che sia su categorie aspetto un attimo nel frattempo ragazzi se avete delle domande ok o volete vedere qualcosa in particolare adesso vi faremo un po una panoramica sulle cripto se volete che analizziamo qualche progetto in particolare se avete qualche richiesta in particolare scrivetelo nella chat così mentre andiamo poi a vedere le cripto principali andiamo ad analizzare quelle secondo me più interessanti in questo momento se volete andiamo a vedere anche quelle che voi mi scrivete ok perché ripeto adesso vi ho fatto un po una panoramica ad ampio spettro però vorrei che la call fosse basata non sulle mie esigenze ma sulle vostre ok non mi ricordo come si fa cioè non mi ricordo dov'è qualcuno si ricorda qualcuno lo sa allora datemi un attimo forse su investing te lo fa vedere ricca no c'era anche su coinmarketcap però adesso è un po' che non entro dal mobile per pigrizia e qui sulla prima voce che ti dà se clicchi su altre due righe lì appena sopra un po' su ti dice appena altre due righe no però ti apre quello questo qui è il tra l'altro questo è molto interessante lo sto testando da un po' FTX per poter tradare le azioni tradizionali utilizzando le cripto molto molto interessante non so se avete mai provato con FTX voi potete acquistare e vendere azioni ok nel mercato tradizionale ad esempio Tesla che sono azioni tokenizzate quindi mantengono il prezzo del diciamo del sottostante però di fatto voi non state acquistando Tesla state acquistando un token che rappresenta il valore dell'azione di Tesla ok un po' come quando voi comprate USDT voi non state comprando il dollaro state comprando una moneta che è collateralizzata in modo tale da avere il prezzo uguale al dollaro stessa cosa vale con le azioni tokenizzate che su FTX sono molto interessanti perché vi danno una serie di vantaggi quindi sto facendo dei test da ormai più di un mese per provare appunto FTX è molto molto interessante poi questo si congiunge a quello che poi vi devo raccontare alla fine non mi ricordo come si fa nel frattempo leggetemi se ci sono delle domande qui in chat che non riesco a vedere sì c'è Marcella che aveva scritto se il ciclo che hai fatto vedere prima è infinito o esisterà sempre così fondamentalmente? infinito il grafio della paura, avidità eccetera infinito quello che cambia è la tempistica quindi quanto ogni miniciclo dura però il ciclo è sempre quello ok? è sempre così cambia la tempistica quindi quanto stiamo e quindi questa è la questione di quello che dicono le persone se sapessi quando entrare se sapessi quando uscire se avessi la sfera magica perché non sappiamo quando siamo in uno dei momenti precisamente quindi quando ci sarà il bottom e quando ci sarà il top quindi quando siamo al fondo e quando c'è la parte più alta della collina quindi questo non si sa però il mercato è sempre così eccolo qua forse l'ho trovato Enrico scusami devo staccare c'è poi Mario e Samuel intanto in sala sì sì ok vai tranquillo ciao a tutti ciao ciao metto cost Mario quindi Mario dai un occhio se entra qualcuno di accettarlo per favore ok l'ho trovato allora l'hanno spostato quindi si va su Cryptocurrency che ovviamente non essendo Cryptocurrency non stavo guardando però è proprio sotto Cryptocurrency quindi si va qui e anzi facciamo così ve lo metto in italiano che immagino che molti di voi lo utilizzino in italiano ok quindi si va su Cryptocurrency e si va su Fiat Companies Ranking che è rimasto in inglese nonostante ce l'abbia in italiano comunque pazienza qui praticamente noi possiamo vedere ok sia a livello di valute ok quindi valute a livello Fiat ok quindi faccio sempre questa battuta però portate pazienza mi fa ridere non è la macchina ok sono le valute tradizionali ok quindi in che modo le più grandi criptovalute come Bitcoin ed Ethereum si confrontano con le più grandi valute Fiat del mondo li elenchiamo per capitalizzazione di mercato quindi noi cos'è che vediamo vediamo tutte le monete ok a livello mondiale e vediamo dov'è Bitcoin ok ovviamente cos'è che notiamo notiamo che Bitcoin è l'unico ad avere un rifornimento massimo limitato a 21 milioni tutti gli altri sono unlimited quindi illimitati quindi la Cina, gli Stati Uniti, l'Unione Europea il Giappone, la Gran Bretagna possono stampare moneta in maniera infinita ok e quindi se noi andiamo a vedere la capitalizzazione di mercato quindi quanta moneta c'è in circolazione a livello mondiale di yuan cinesi, dollari, euro, yen giapponesi eccetera vediamo che Bitcoin in questo momento è al 14esimo posto ok ma quello che notiamo è che la differenza tra le prime valute Bitcoin è abissale ok quindi qui ce la vanno a misurare in Bitcoin però se voi vedete ad esempio dalla Cina, gli Stati Uniti, l'euro rispetto a Bitcoin c'è una differenza abissale l'altra cosa che è interessante da capire sono le aziende quindi se noi andiamo su top companies noi riusciamo a vedere la capitalizzazione di mercato quindi quanti soldi mettiamo in dollari perché più di solito l'economia mondiale si basa in dollari quindi è meglio vederlo in dollari questo dato anche i prezzi delle cripto mettetele sempre in dollari ok possiamo vedere nelle top companies ok qual è il market cap quindi qual è la capitalizzazione di mercato delle principali aziende a livello mondiale e quindi noi troviamo Bitcoin a 740 miliardi ok e troviamo ad esempio Apple a 2 trilioni e 662 miliardi quindi questo perché ve lo faccio vedere perché una sola azienda per carità ragazzi è la Apple tutto quello che volete ok però una sola azienda oppure Tesla ad esempio 866 miliardi però una sola azienda è più capitalizzata dell'intero mercato delle criptovalute che sono 18 mila quindi una sola azienda ha quasi un trilione in più di capitale circolante di capitale investito rispetto a tutto il mercato che vi ho fatto vedere prima delle criptovalute quindi questo indicatore è molto interessante perché ci fa capire che siamo in una fase ancora embrionale e quindi che c'è un sacco di spazio per poter per poter crescere e ovviamente per poter guadagnare per poter avere delle opportunità quindi quando vi dico che chi è in questo gruppo ha comunque dei vantaggi perché siamo effettivamente i primi è la verità cioè lo dicono i numeri cioè una sola azienda ok di borsa americana è capitalizzata quasi 3 trilioni tutto il mercato è poco più di un trilione e mezzo ok quindi questo è molto interessante perché ci dà un parametro rispetto all'economia tradizionale di dove siamo e dove possiamo arrivare soprattutto comparandolo con altre valute ok che hanno dei numeri che sono in maniera diciamo esponenziale più più grandi rispetto però è interessante ad esempio che il peso messicano o il BAT thailandese sono meno capitalizzati di bitcoin ad esempio quindi questa cosa è interessante quindi è sempre bello ripeto avere una panoramica che sia globale e che non sia diciamo che non sia un pensare in maniera binaria ok quindi o bianco o nero fondamentalmente allora